ben trovati amici di regina della pace tv oggi 27 giugno la chiesa festeggia il nome di san cirillo d'alessandria vescovo e dottore della chiesa cirillo fu l'intrepido difensore della divina maternità di maria il trionfatore di quel concilio di efeso che mise fine a un'insidiosa controversia teologica che aveva contrapposto per anni le due sedi più prestigiose dell'oriente quella di alessandria in egitto della quale era vescovo cirillo e quella patriarcale di costantinopoli retta da nestorio il patriarca nestorio intelligente e astuto la sua parte si era fatto portavoce di un'idea che di primo acchito poteva apparire una sottigliezza bizantina ma che in realtà smantellava uno dei dogmi chiave del cristianesimo l'incarnazione nestorio si era messo a contestare il titolo di teotocos cioè madre di dio con il quale veniva onorata la vergine maria tutta al più affermava nestorio la potremmo chiamare madre di cristo cioè cristo tocos gli pareva assurdo che una donna potesse essere madre di dio la realtà era che quel gesù che maria aveva dato alla luce nella grotta di betlemme era lo stesso verbo vivente generato dalla stessa sostanza del padre che nel tempo si era fatto carne era insomma figlio di dio l'incarnazione non era una pura unità di relazione di due persone in cristo quella divina e quella umana ma un'unione sostanziale ipostatica come dicono i teologi quindi maria è madre di dio questo insegnava da sempre la chiesa universale proclamando queste tesi cirillo si oppose alle novità di nestorio prendeva il via così una contesa aspre serrata nella quale si intromise anche l'imperatore di costantinopoli minacciando prima di esilio il vescovo di alessandria passando poi alle vie di fatto che per cirillo vollero dire qualche mese di duro carcere allora cirillo si appellò all'autorità del vescovo di roma degnateci di dirci scriveva celestino primo se dobbiamo restare in comunione con nestorio se dobbiamo cessare ogni relazione il papa li rispose affidandogli la difesa dell'ortodossia intanto l'imperatore di costantinopoli sperando nella vittoria di nestorio decideva di convocare a efeso un concilio per porre fine alle diatribe teologiche che minacciavano di esplodere cruentemente in altre sedi ma le cose non andarono come l'imperatore sperava e nonostante il suo appoggio il patriarca nestorio uscì da efeso sconfitto l'emmanuele consta con certezza di due persone aveva spiegato all'assemblea attenta e desiderosa di essere illuminata di quella divina e di quella umana tuttavia il signore gesù è uno unico vero figlio naturale di dio insieme dio e uomo non un uomo deificato simile a quelli che per grazia sono resi partecipi della natura divina ma dio vero che per la nostra salvezza apparve nella forma umana con questa illuminante sintesi di pensiero riusci a convincere la quasi totalità dei padri conciliari a proclamare maria madre di dio teotokos bene carissimi termina qui il nostro consueto appuntamento pace gioia a tutti voi